Dimenticare Prato. L'imperativo in casa bianco-rossa è quello di resettare quanto accaduto domenica scorsa a Lungo Bisenzio e concentrarsi sulla sfida con il Pontedera. Una gara da vincere sperando in un passo falso dell'Ascoli a Sant'Arcangelo di Romagna per festeggiare così con 180 minuti di anticipo la conquista della Serie B. Ora però il Teramo dovrà pensare solo a guardare in casa propria. Il K.O. di Prato è stato figlio anche dello stilicidio pre-gara del Lungo Bisenzio per Ascoli Carrarese. Quattro punti rappresentano una dote comunque importante. L'undici bianco-rosso resta arbitro del proprio destino. Conquistare i tre punti domenica prossima contro i Toscani sarà fondamentale a prescindere da quello che accadrà ai bianconeri che nonostante il vittorioso 3-2 sulla Carrarese sono ancora le prese con polemiche e tensioni. Il patron marchigiano Bellini ha infatti ordinato a tutti i tesserati il silenzio stampa per non parlare delle contestazioni al tecnico Petrone nonostante la vittoria nell'ultimo turno. Nel Piceno il clima resta pesante, al contrario di Teramo dove si pensa la gara col Pontedera con ottimismo ma anche senza esaltarsi. I tifosi del Diavolo sono pronti domenica prossima ancora a gremire il Gaetano Bonolis. Teramo Ascoli che si affronteranno, ironia della sorte, nell'ultima giornata di torneo sarà anche e soprattutto una sfida di cuore, testa e nervi. Alla Padula e compagni il compito di tramutare il sogno in realtà. Oggi la squadra tornerà agli allenamenti in vista del match con gli Amaranto Toscani. Sempre nel pomeriggio ci sarà il pronunciamento del giudice sportivo dopo l'espulsione del tecnico Vivarini a Prato. Questa mattina è partita anche la prevendita dei biglietti per Teramo Pontedera che si giocherà alle 15. Si punta a raggiungere 6.000 spettatori e battere così il record di Teramo Giulianova con 5.800 spettatori. Dopo la gara col Pontedera nelle ultime due giornate si disputeranno Savona-Teramo e come detto Teramo-Ascoli per i bianconeri dopo la sfida di Sant'Arcangelo in programma il derby casalingo con l'Ancona e poi l'attesa sfida del Bonolis che tutti sperano possa essere solo una festa in tinte bianco-rosse.